Buon pomeriggio dal Tg della Mobilità, nuova fase di lavori sul piazzale della stazione Tiburtina per la realizzazione dell'area pedonale davanti all'ingresso principale, da martedì prossimo saranno deviate 11 linee bus, l'elenco in dettaglio sul sito romamobilita.it. Le altre notizie da domani e per 5 giorni, lavori sul lungotevere degli Inventori all'altezza di via Brunacci in direzione di piazza Meucci. Dal 25 agosto alla metà di settembre invece cantiere in via di Ponte Galeria e senso unico alternato tra via Pitentino e via Usini. Gli aggiornamenti come sempre anche su questi cantieri si possono seguire sul sito romamobilita.it.